Stiamo parlando del quadrilatero che va da Corso Vittorio Emanuele, Via Leopoldo Muzzi, Riviera, Piazza Italia, con dei focus particolari in zone pericolosissime che sono Piazza Santa Caterina e Parco Florida, Giardinetti di Piazza Primo Maggio e Portici di Piazza Salotto. Cosa accade? Qui vengono bande criminali, delinquenti, spaccio di drogo a tutte le ore del giorno della notte, i cittadini commercianti non ce ne fanno più. Voi immaginate che i commercianti si vedono entrare persone balordi, ubriachi, drogati all'interno dei propri esercizi, vomitano all'interno, urinano sulle vetrine e spesso sono costretti a chiudere il locale, un commerciante che deve chiudere a chiare il locale e aprire solamente quando riconosce il proprio cliente. E' qualcosa di assurdo, non si dica più che Pescare è una città tranquilla, è una città che sta subendo un escalation sulla sicurezza enorme, ci sono situazioni gravissime anche all'interno di questi parchi che abbiamo detto dove si spaccia droga. Qui vengono dalle periferie, si stanno spostando, ecco l'analisi sociologica del fenomeno, bande di baby gang che vengono dalle periferie ma a volte anche criminali, pregiudicati, ostentano i loro muscoli qui e solo qualche giorno fa hanno preso a pugni, a sberle un ragazzo, l'hanno fatto cadere rovinosamente a terra e c'è un video che va girando, quindi tanti di questi casi. Cosa si potrebbe fare? La ricetta ce l'abbiamo in tasca e si dovrebbe fare. Le amministrazioni preposte devono istituire un presidio fisso H24 di polizia in piazza Salotto come è stato fatto in altre piccole metropoli e poi ripristinare subito la gente della polizia locale in piazza Santa Caterina che si occupa di vigilare in quel quadrilatero e nel parco Florida. Quando c'erano il problema si risolse. Si respira qui nel centro un senso di insicurezza soprattutto la notte. Noi respiriamo qui proprio un senso di disagio e insicurezza anche nel vicino parco Florida che è il parco per eccellenza del centro. La nostra città è una realtà piccola, bisogna controllarla e non dobbiamo essere preda di malviventi.